Scusate, 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 sono rimasto prima e hanno stanato per la testa, ma va bene? Sì, dieci anni fa sono stati gli imprenditori del rame, protestavo per lo sfruttamento di noi lavoratori pagati meno di un pomodoro allargato, ho organizzato riunioni, sciomperi e dicevo a tutti guardate la vostra terra, guardatela, è anche la nostra terra, è una meravigliosa, non lo siete in tabulasi dove vedete i suoi fiumi, i suoi mari, le sue montagne, le sue pianure, è quanto è ricca, è stantile, capace di soddisfare ogni bisogno, se solo non appartenesse a pochi, se solo appartenesse a tutti e poi come ho avuto l'alto, se solo appartiene a tutti, non lo vedi, non lo vedi, non lo vedi, ma come ho avuto l'alto, ma come ho avuto l'alto, ma come ho fatto l'alto, ma sono ancora vivo, ci vuole più di un'arma per uccidere uno come me, allora ho questo gioir che mi sta parlando, è un pazzo che dice che è ancora vivo anche se l'hanno ammazzato 10 anni fa oppure sono io che sono... ma il padre Joe Hill che mi fai i miei pensieri e chiede e tu non rispondi tutti i gatti e io ti dico non lo so, non lo so che credo che ogni posto del mondo sia buono per qualcosa, se solo sai scoprire qualche cosa e tu invece non ti fermi Joe Hill di qualche campo del sud, di qualche miniera dell'ovest, di qualche sciopera della città dell'est, di qualche paracca del nord, io ti fermo la punta e c'è un lavoratore che combatte i propri diritti e l'ha che mi trova a tornare e io e come lei sempre, Joe Hill come get a little people wherever you go and I never had no wonder to ride you a throw and I sadly the truth will be drive to the pole and if you're dying for you it's worth saving then you play an answer between for you it seems like it's stone for a time they are a changing for a time they are a changing I'm so grateful to me so if that's not a chance Grazie.